Sempre 25 aprile, sempre viale della primavera, questo è il filmato numero 2 di oggi. È venuto un operatore, come avevo detto sul finire dell'altro filmato, che ha dato una discreta pulita. È rimasta qualche cosa, è rimasta quella tavola purtroppo sotto al secchione, quella busta sotto al succhione, però gli ha dato una parvenza di normalità. Il normale non è la strada, non è viale della primavera, che come detto ormai è lasciata a se stessa. Qui non ci si avvicina un operatore ecologico da settimane. L'altra cosa che dicevamo grave, che ho segnalato anche all'operatore ecologico che stava caricando e che è convenuto con me, è il fatto di questi due supermercati, uno è il DEM e uno risparmio casa, che conferiscono i loro rifiuti aziendali nei cassonetti per la cittadinanza. E anche lui è convenuto che è ora che passino degli accettatori, passi qualcuno e intimi, obblighi, questi due centri commerciali, visto la mole e demonnezza che producono, a mettere dentro uno scarabile, secchioni, quello che gli pare a loro. Qui il viale della primavera, dal degrado certificato, passo e chiudo. Le infestanti ne nomino per niente perché insomma potrebbero essere, dalla lama del 2015, essere considerati fiori. Vedete, di fatti ci sono dei fiori, delle margheratine selvatiche. Ok, passo e chiudo. Vediamo se almeno per il primo maggio puliranno.